Buonasera, buonasera, è una prova di video, eh? Se no dite ma che video è questo? Sono tornata. Prima di prima differenza tra Montesi e Buncherino Kabum. Vi ricordate dovevo fare quel video? Montesi si vede bello, anche forse troppo, e sicuro di sé su queste cose, eh? Buncherino, a differenza invece, si vede brutto, forse a causa dell'altezza, non lo so, ed è fissato molto, molto, molto con questo fisico, con l'aspetto fisico. Per lui è un'ossessione. Montesi si fa vedere alla luce del sole, Buncherino l'avete mai visto? Io no, c'ha mille, mille maschere, no, ce n'ha una sola, no, no, ce n'ha mille, sono i suoi falsi account. Eh, non è finita qui. Ciao, ciao, ciao!